Sono trascorsi già tre mesi da quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciati eppure il ricordo del conduttore Rai da parte del pubblico, di amici e colleghi resta indelebile. Per onorare in modo degno e duraturo la sua memoria però manca un gesto che in tanti stanno chiedendo, ovvero l'intitolazione al suo nome degli studi di Ardi Roma. Un paio di settimane dopo la sua morte era stata lanciata una petizione su change.org da parte dell'associazione Rai Benecomune Indigne Rai che ha motivato così la ferma volontà di ricordare l'amatissimo presentatore. Dopo l'incredibile scelta della dirigenza Rai di intitolare a Ballami il teatro delle vittorie, a maggior ragione crediamo sia necessario porgere l'ultimo e significativo omaggio ad un personaggio che merita di essere ricordato nel migliore dei modi e che tanto ha dato alla nostra Rai. Ora anche Two Sense Tweets dai suoi canali social torna a chiedere ai vertici di Viale Mazzini di accelerare i tempi e dare ascolto ai fan di Fabrizio Frizzi. È stato un artista simbolo dell'azienda che ha dato alla stessa molto più di quanto ha ricevuto. La Rai, continua, non dovrebbe farsi pregare per ricordarlo concretamente ma esserne orgogliosa. Noi di Famic siamo assolutamente lieti di sostenere l'iniziativa e auspichiamo che al più presto Fabrizio Frizzi venga degnamente omaggiato dall'azienda a cui è stato fedele per sempre e ha dedicato la sua vita distribuendo davanti e dietro le quinte sorrisi, ottimismo in buon umore!